...un telefono cellulare Samsung SMG 100 con il quarto premio... ...una fotocamera con il terzo premio... ...un acern 15 pollici... ...compiute naturalmente portate come secondo premio... ...e un tv led 40 pollici sony come primo premio... ...quindi continuate ad acquistare i miglietti... ...che costano un euro... ...un euro miglietto vale un euro... ...si porta a casa... ...un 40 pollici... ...va pagare... ...ma noi diciamo che si appolli per più... ...allora... ...prosto è terminato... ...devo mettere questo coltetto... ...ma c'è... ...doncino ancora più crocchetti... ...non utilizzati... ...frambo... ...magina fare in capagna con queste... ...ma magari... ...vecchia cantina... ...e io devo assaggiare... ...e non mi fanno male il vino era buono...